Damiano piacere, molto piacere Robert, molto piacere, vieni Allora com'è, 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 com'è avere un altro nome in realtà Hai fatto una domanda giustissima Perché io ho visto subito la chat Piacere Robert, oh Nicolò Assolutamente, sicuramente fa piacere Perché fa piacere Però qualche volta dici Cavolo, io sono Robert e Nicolò è un pezzo di Robert Non è Robert a essere un pezzo di Nicolò Capisci quello che intendo Certo, certo Cioè, poi ovviamente ci sta perché Nicolò è stato un fenomeno Per quello che è stato il film sulla catinelle Però è figo È figo E quell'esperienza lì è stata l'esperienza più bella della mia vita Perché è stata la prima grande esperienza cinematografica La prima esperienza cinematografica La prima 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 Mai fatto nient'altro Prima e mai neanche studiato chat Assolutamente Cioè a te ti hanno preso Tu sarai il protagonista insieme a Checco Esatto Deciso Allora io ti voglio chiedere Della storia del cinema italiano proprio In Italia sì Record di cazzesco Quello che ti voglio chiedere Quello che ti voglio credere Ma Ti ha scelto Checco? Allora Primo provino C'è stato un primo provino Per un ruolo da protagonista Spesso ci sono più provini Come è stato nel mio caso C'è stato un primo provino Nel quale c'erano Solo la casting director E ho fatto La scena Quella Super famosa Del Papà mi hai rotto il cazzo Ok Quella è stata la scena Che mi hanno mandato Studiato sul treno Nel viaggio da Milano a Roma Eh neanche dici a casa No proprio Tranquillo C'era di tranquillo Sereno Ed è andata bene Ho fatto il callback Una settimana dopo Dove c'era sia Checco Che Gennaro Nunzianti Il regista di Ok Che è stato il regista Di tutti i quattro Fino a Quo vado Poi Tolotolo L'ha fatto Un altro Ok E dunque poi sì L'ultimo decisivo È stato Checco Il regista a scegliermi Che ricordo benissimo Quando sono arrivato lì Nella stanza Del provino Ero molto Io sono una persona Abbastanza timida Poi ci ho lavorato Su questa cosa E C'era questa scena Chiaramente dove tu Papà mi hai rotto il cazzo Dovevi urlare comunque Certo E Mi prende il regista Gennaro E mi dice Robert Sei venuto qua per niente Se non ti sblocchi E non ci fai vedere qualcosa E dunque lì Mi ha dato la carica giusta Per Ok Che ho preso il ruolo Effettivamente Bello E ti sei sentito Cioè davvero Ok oggi ho spaccato Non troppo Perché non avevo ancora percepito Cosa stessi facendo Beh Quanti anni avevi? Undici Eh undici anni Ricollissimo Io non sapevo neanche chi fosse Checco Cioè tipo il legame con Checco È stato un qualcosa che Ho sicuramente Coltivato e vissuto appieno Nel senso che Checco È una persona Straordinaria Sei ancora in rapporti? Allora Ci sentiamo Ad esempio Durante le festività Ok Io potrei far sentire un audio di Checco Che mi ha mandato al mio compleanno Certo Auguri no Bert Fai gli auguri a A tua sorella A tua mamma A tutti quelli Qui vuoi bene Mi raccomando Non andare subito in andropausa So che sei cresciuto Non andare subito in andropausa So che sei cresciuto È un grande raga È un grande È un grande Ovviamente Una cosa che voglio sapere è Quella cosa ti ha cambiato la vita Sei diventato effettivamente poi un attore O comunque stai studiando per diventarlo O hai detto È stata l'esperienza bellissima Me la porterò per sempre dietro Ma la mia vita la voglio diversa La mia passione è la recitazione Ok Lo è stato da quando Ho fatto effettivamente il film Non lo era prima L'ho scoperta E ci sono ovviamente stati degli imprevisti Delle situazioni La vita non è tutta lineare Mai E chiaramente Io non mi sento per niente un attore Ma è quello che voglio essere E che voglio diventare È il tuo sogno Esatto Ok Dunque io sto continuando a provare Sto continuando a fare provini E questo volevo sapere Tu non hai mollato Cioè nel senso Non hai fatto perché sai Purtroppo il mondo di oggi Fai una roba forte Poi non ti si vede Perché magari stai lavorando Nel background Quindi magari hai avuto Immagino hai studiato Hai fatto cose Allora è andata così Ma da due anni a questa parte Ah ok Prima io ho fatto Solo a Catinelle Un anno dopo ho fatto Fuori classe Che è una serie tv sulla Rai La stagione 3 Ok Con Luciano Letizietto E dopo è stato un po' Tutto altalenante Per il semplice fatto che Ho avuto una pressione sociale addosso Eh certo Anche dalla mia famiglia Da tutti Di dire Vai ok Continua Questo è il tuo percorso Mentre io magari volevo Semplicemente andare all'oratorio Con i miei amici E giocare a pallone Certo E dunque C'è stata la situazione In cui La mia testardaggine Ha preso piede Di dire No Fermi un attimo Io voglio fare la mia vita Da ragazzo In questo momento E allora io sono sempre stato appassionato Di aviazione Ho fatto L'istituto tecnico aeronautico A Bergamo Per diventare pilota E dunque Quello è stato Il mio Vero sogno In quel momento Dunque mi sono discostato Da quello che era La recitazione Quindi La scena finale Di solo a catinelle L'avete fatta anche Real E poi Nel montaggio Quella faceva troppo ridere Ed è stata lasciata così C'è Spiegami un attimo Ok La scena finale La zia Era attaccata Sì Ai macchinari Per farla rimanere in vita Sì Sì Cos'è successo Prima della scena La stavamo provando Un paio di volte Prima della scena Gennaro Nunziante Un genio Il mio regista Io lo adoro Mi disse Robert inizia a ridere Dunque non è stato Spontanea Ok Ha detto Robert inizia a ridere Mentre loro chiacchierano Allora io ho iniziato a ridere Senza che Né Luca Checco Né lei Sapessero che Gennaro mi avesse detto Di ridere Ed è stato bello Proprio come loro Hanno continuato Comunque la scena Luca un genio Ha continuato Tranquillo Mi diceva Diglielo anche tu Diglielo anche tu No lo staccherò La sfida Lo staccherò E dunque Alla fine si sente Poi partono i titoli Di coda C'è anche la canzone Si sente la zia Che dice Ma perché Ma perché Esatto Quello Esatto Che sembra Ma io me l'ha detto lui Esatto Che sembra una scena Improvvisata Cioè che tipo Che poi anche la battuta Dell'eutanasia No Che lui che stacca La Quella era scritta Ma bellissima Ah ok Quella era scritta Assurdo HCCP Hazard analysis In critical control point Bravo papà Mamma mia Che assist Che mi hai fatto qui Eh beh Questo è Il film bro Questa è Una città Questa è il film Quando stanno alla serata Delle Delle donazioni No Sì sì Poi pure in piscina Che si affaccia Che si affaccia Dalla piscina E poi torna in acqua Essere Niccolò Ti ha Dato Vantaggio Ora sei fidanzato Quindi salutiamo Gloria Parliamo di passato Ma in passato Pre Gloria Ti ha dato vantaggi Sotto l'appunto di vista Ragazze Sì C'è mai stata una ragazza Che ha detto proprio Però è un po' strano Eh perché sei un bambino Era un bambino Esatto C'è qualcosa Un po' di fetish Esatto Secondo me Ora come ora Non troppo Però sicuramente Ai miei 14 anni Quando dave i primi baci Dietro l'oratorio Così Lì sicuramente sì Forse adesso magari è il fatto Che c'è un primo aggancio Di dialogo Sì Ora sì C'è un primo aggancio Di dialogo Poi secondo me Sta al giocatore E comunque rimane Al giocatore Al player Lo facciamo Secondo te Sei un bravo attore Quando la gente in giro Vede te E dice È quel personaggio Per quanto sei stato bravo A impersonaggirti Sì Capito? Oppure il contrario E la persona vede te Cioè vede il film E ti chiama Col tuo nome Nel film È Il primo Perché ad esempio Se io Vedessi Di Caprio Ovviamente tutti sappiamo Che è Di Caprio Certo Però Quando penso a Di Caprio In Il Grande Gatsby Mi viene a dire Cazzo È Il Grande Gatsby Sì Dici Quella è Jack Cioè noi quante cazzo di volte Vediamo Di Caprio In film diversi Dove è una persona Completamente diversa Sì E ogni volta ci fa vivere Una vita diversa Ebbè No per me Il più incredibile di tutti È Steve Buscemi Che fa Che interpreta Dei serial killer In maniera spaventosa Che proprio ti cachi addosso E poi lo vedi Nei film Con Adam Sandler Che sembra Il più coglione Esatto Che De Niro Comunque De Niro Fa le troiate Sì 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 Stiamo parlando comunque Dell'uomo Che ha vinto più Oscar Nella storia Diciamo che Domanda un po' più Cringia Ma i soldi I soldi Quanto ha guadagnato Non quanto Però com'è andata Tu hai Cioè le avete Tutti tipo risparmio E poi quando tu sei stato grande Te li hanno Sì Sì È andata proprio così Ah ok Nel senso che Gli ha presi Anche perché se no Se li bruciava tutti In Yu-Gi-Oh Probabilmente Esatto Tutti Ok ma funziona così Vuoi dici quanti? Quanti esattamente Non ci tengo a dirlo Tanti o Non troppi Normali Allora Provate a spararne una Allora Vediamo chi si avvicina Ok 30 50 Tra i 50 e i 100 Anche per me è 30 I più vicini sono i 30 Ok I 30 Ok Quanto ha guadagnato Ok Cioè comunque Ma aspetta La metodologia Cioè il fatto che tu eri piccolo E l'hai sbloccati Quando sei diventato grande Proprio perché funziona così O perché A te Magari la tua famiglia Ha fatto questa cosa No se sei minorenne Credo proprio che funzioni così Ok Cioè da considerare anche I diritti Ci sono anche quelli Ah Cioè Cioè Quindi continui a guadagnare I diritti d'immagine Sì Sì come Leo Cicchetto Calcolando Calcolando che stiamo parlando Del film Con il terzo film Con più incassi Della storia del cinema italiano Direi che A diritti Non siamo messi male Più chiaramente Il film va meglio Ad esempio 2024 Lo trasmette Mediaset Poi lo trasmette Netflix Ah Su canale 5 Esatto Più io Guadagno Quindi quando vedi la pubblicità Ti metti in live E fai stasera Cosa c'è in tv Stasera cosa facciamo A Samsara Facciamo una bottiglione Stasera Stasera credo proprio Che lavorerò Accendi canale 5 C'è il film E dici Ah Uff Aver fatto il film Te lo fa godere Tanto quanto Me che non lo sapevo Oppure Quando l'hai visto Era uguale Quando l'ho visto Era uguale Poi Soprattutto All'inizio E fino a poco fa L'ho sempre visto Con Oddio Lo so a memoria Non ho neanche voglia Di vederlo L'ultima volta Che l'ho visto Che è stato circa Un anno fa Perché l'hanno fatto Su Mediaset Mi sono quasi emozionato Davvero Vai Mediaset Che lo Grazie Mi sono quasi emozionato A dire cavolo Cioè Quasi ho sentito Un'emozione Di dire Io voglio Voglio rivivere Queste cose qua Grazie mille Per essere stato con noi Lo diciamo tutti quanti In coro Perché è stato un vero piacere Stare con te veramente Perciò tutti con il coro Perché È stato un vero piacere Che stai con noi Perché ti dico Non è scontato Che la gente Sia così presa bene Tu sei proprio un preso bene Quindi è stato un vero piacere Grazie mille Sei proprio equilibrato Consapevole E sei veramente bello E sei bello cazzo Grazie Grazie Grazie